Ciao amici, la cosa che c'è di oggi è... Vi facciamo una veloce carrellata dei regali che la Befana ha portato da Rihanna Un po' incantato e quindi se avete sentito un rumore di carta c'è una stanza di Harry Potter un'altra stanza di Harry Potter per il castello, una borraccia con la scritta Rihanna l'astuccio di legami con un dinosauro un drago un temperamatite di legami poi tre penne che abbiamo messo nell'astuccio insieme alle altre e un sacco di roba dolce Vi faremo poi vedere un video per ogni... Guardate Kinder Bueno ragazzi faremo poi un video per ogni regalo fatto dovete vedere ancora... dobbiamo ancora fare quello della Vespa di Barbie ma poi faremo Buona Befana mettete un bel pollicione iscrivetevi al canale ci vediamo nel prossimo video Ciao 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 Ciao